bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda i prossimi giorni di fortnite parleremo dell'evento quello di midas l'evento oro quello insomma collegato all'agenzia qualche immagine ve la voglio far vedere parleremo anche dell'argomento più scottante degli ultimi giorni la n world detta dal signor dubs dei phase e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite voglio subito ringraziare tutti i ragazzi che mi supportano utilizzando nel codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto o sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video delle 13 e 30 non doveva esserci la intro mandato mi dimentico sempre ogni tanto i tasti ragazzi no però invece voglio anche dirvi che ci sono delle cose importantissime in corso e prima di farvele vedere perché abbiamo anche delle coperture animate scoperte nei file di gioco vi faccio la domandina ragazzi domandina super super fast ma qual è la tua arma mitica preferita ce ne sono sei va beh il rampino non è un'arma qual è quella che preferisci in assoluto la mia ragazzi indiscutibilmente è la minigun è troppo rotta troppo rota in 3d minigun prepotentemente tiri giù tutto dimmi qual è la tua preferita qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance eccolo qua il primo argomento di oggi interessantissimo vediamo questo signore allegrissimo barbutissimo con in mano un paio di birra il signor pitt ellis che cavolo è pitt ellis beh è il art director di epigames insomma quello che gestisce e che dà le conferme per le nuove skin la nuova grafica i nuovi effetti speciali tutto quello che passa da lui il signor pitt ellis ragazzi ha commentato un tweet da parte di questo ragazzo un po di tempo fa che aveva fatto un concept sulla skin guarda un po agente miascolo ed infatti in questo post che vediamo poi lui va a ringraziare per l'idea che è stata poi sviluppata il ragazzo contentissimo ma la cosa molto interessante è che qualche giorno fa il signor pitt ha commentato anche questo post praticamente si parla di double agent agent allora è una bella cosa nel senso non si è capito bene se sarà una nuova skin o se sarà qualcosa dedicato a qualche agente della fazione spettri e ombre è un'immagine che arriva direttamente da un sito che si chiama da una page si chiama out of skate se non ricordo male quindi comunque vediamo che l'abbigliamento è assolutamente molto molto urban e la cosa interessante appunto è proprio il commento del signor pitt staremo a vedere ragazzi se arriverà questa skin che cosa ci porterà se c'entrerà ovviamente in qualche modo con gli agenti con la storyline vi terrò sicuramente aggiornati su tutto quello che sta per succedere e andando avanti al prossimo argomento beh eccola qua alle mie spalle la cosa interessante una delle cose interessanti del video di oggi come vedete ci sono tre cerchi in questa immagine che presenta appunto l'agenzia da un'angolatura vicino a qua saremo su verso rapide rischiose no se andate a controllare in mezzo a quei cerchi noterete che tutte le ringhiere dell'agenzia il logo che ce l'ha poi la mia cam copre ma anche la statua che c'è davanti che adesso è in pietra è tutto d'oro questo ragazzi vuol dire che siamo arrivati a uno stage successivo dell'agenzia il che ci lascia pensare che possa essere proprio la skin finale midas che fa comunque parte principalmente della storyline di questa season a continuare ad avanzare nel suo programma di trasformare in oro tutto ciò che tocca così come vuole la leggenda la cosa è davvero interessante perché appunto non so chi di voi ha raggiunto il livello 100 del pass battaglia ma quando sbloccate appunto come skin finale midas tutte le volte che voi imbracciate un'arma automaticamente gli viene messa la copertura dorata quindi anche questa immagine davvero molto molto interessante e staremo a vedere che cosa ci riserva il futuro perché sono convinto che tra non molto cominceremo a vederne delle belle penso non appena avremo sbloccato tutti gli agenti dell'agenzia e andando avanti ragazzi con il prossimo argomento nuove cose trovate nei file di gioco queste sono questa line alto una riga di codice che ci dice ci sono delle nuove skin una o due non si è capito bene che sono appena state inserite nei file di gioco non abbiamo purtroppo le immagini ma abbiamo i nomi e si chiamano cyclone space e space e cyclone universe sono due skin sono due nomi che ci fanno abbastanza pensare perché di nuovo richiamare lo spazio e l'universo potrebbe essere un discorso di collegamento con il robot della season 9 vi ricordate che nello scontro cactus versus dogus il robot parti verso lo spazio e chi si è visto si è visto potrebbe essere un collegamento tra l'altro come vedete nella riga successiva sono stati trovati anche tutti gli accessori del set quindi piccone copertura e deltaplano staremo a vedere ragazzi ovviamente anche qui che cosa ci riserverà il futuro volevo solo farvi vedere una cosa molto interessante in questa immagine non vi ho letto le ultime righe dell'immagine di prima che dice sembrerebbe che alcuni picconi piano piano in game si modificheranno perché vi sto facendo vedere queste immagini perché in nelle righe che venivano dette prima si dice si dice che dei diamanti e delle pietre preziose andranno ad abbellire alcuni picconi ed effettivamente queste immagini che state vedendo sono dei pattern che cavolo sono i pattern i pattern sono delle degli effetti o delle immagini che noi vediamo poi in game ok quindi noi vediamo lasciate perdere i colori non guardate i colori che non c'entrano nulla abbiamo l'effetto delle fiamme che probabilmente arriverà mi viene in mente che qualcosa di simile ce l'abbiamo già su un piccone che quando lo muovi si vede una scia rossa abbiamo l'effetto noise che è un effetto di disturbo semplicemente ma l'immagine che ci interessa è la prima alia a sinistra il diamond pattern praticamente vi faccio vedere meglio quello che vi sto dicendo lo vediamo nel piccone della banana questo è un piccone che si ottiene nel pass battaglia solo che se notiamo è un po' diverso da quello che ci viene presentato questo ragazzi ha un colore leggermente più dorato e probabilmente sarà uno dei picconi che troverà la sede nel pattern dei diamanti quindi anche qua potrebbero esserci delle modifiche successive per quanto riguarda appunto un possibile upgrade dei picconi e cerchiamo ragazzi di arrivare all'ultimo argomento di oggi purtroppo un argomento molto controverso di cui si sta parlando davvero tantissimo nei social e su tutte le pagine dedicate a fortnite questo signorino qui è il signor dubs fa parte del clan dei phase pro player conosciuto qualificato anche se non ricordo male alle world cup e comunque non è diciamo l'ultimo cula che passa però è un pirla è un pirla bello e buono perché è un pirla perché vi faccio vedere questa clip ragazzi ovviamente censurata perché non mi permetterei mai di far sentire la parola siamo proprio in un gameplay dove lui sta giocando con un suo socio no stanno facendo un po di creativo roba del genere e sentite un po il genio del male che cavolo dice ve la faccio risentire e qua il signor dubs si è tirato l'ammazzata sulle palle come inizi come sentite lui dice la n word due volte e il tizio con cui sta giocando gli dice sto giocando sto giocando cioè sono in streaming sono in streaming adesso è una cosa gravissima nel senso è una cosa gravissima perché ovviamente la n word è la parola più dispregiativa che si può dare a un ragazzo una persona di colore ovviamente non è tollerata lo sappiamo tutti su twitch non dovrebbe essere neanche tollerata su youtube ma diciamo che ci passano un po sopra lui scrive un post pubblico di twitter dice io non posso descrivere quanto sono dispiaciuto per quello che è successo non volevo ovviamente offendere nessuno che cosa cavolo stai dicendo mi dispiace che mi sia entrato in bocca questa parola che non fa parte del mio vocabolario non lo farò mai più pianti lacrime devastazione risponde prontamente il face clan che gli dice mi dispiace carino ma il face clan non tollera assolutamente che ci siano delle discriminazioni soprattutto razziali o comunque denigranti per quanto riguarda appunto le persone questo è stato detto ufficialmente e soprattutto è stato allontanato d'abs dai face per periodo di tempo indefinito e tutto il clan dei face adesso farà un corso appunto per accertarsi che socialmente siano diciamo a posto e non si rivedano più degli episodi del genere che sono ovviamente vergognosi beh ragazzi anche per oggi tutte le news io ve le ho dette vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali noi siamo in live sulla piattaforma viola ciao